E signori, tredicesimo capitolo di Uncharted 3 Acque agitate Eh, partiamo già col dover far fuori qualcuno? Partiamo già col dover far fuori qualcuno Ok, a posto Qua cosa abbiamo? No, voglio il Gmalio Tu laggiù che intenzioni hai? Fammi capire in secondo, eh? Sei una cifra pericoloso Però questo lo posso fare volendo Il problema è che in questo gioco non esistono le armi silenziate Cazzo Voglio sapere che giro fa questo Torni indietro? Non si sa Vabbè, noi Nel dubbio facciamo così Anche se non è che si veda granché No, forse mi conveniva stare là, sapete? Eh, raga, è sparito Vabbè Oh, meglio così Ce n'è un altro laggiù Ed è molto potente lui Molto, molto potente Ok Vieni qui Dovremo andarci Sembra anche piuttosto violenta Bene È stato un altro di coraggio pazzesco, eh? Ma ce l'abbiamo fatta Allora Qua abbiamo Qualcosina Sì, qualcosina no Ok Attenzione all'un là, eh? Che è poco raccomandabile Tesorino Merda Che poi sono tutti antisommossa Che due coglioni Vabbè Capibile, eh Insomma Anche ad un certo punto della storia È normale Solo che non mi sono mica dimenticato di lui, eh? Ovviamente non mi sono dimenticato Vorrei trovare il modo per farlo fuori Vorrei tanto Ok, allora Gliottissimo Fuori All right Ce ne sono due laggiù Sì, hai visto un movimento? Lo so Lo so Hai visto un movimento Vuoi dire che Oddio Te la sei cercata, Fra Però se fai esplodere così Sei un coglioncello, però, eh? Cioè, perché l'hai... Oh Godo A parte credo che l'abbiamo fatti fuori tutti Ora Me la sono tirata sicuro, eh? Tesorino Almeno prima Negli hanciarti dei precedenti Te lo spiegavano le cose qua Ho solo il disegnino Non c'è neanche più la soddisfazione di prenderli Vabbè A parte quello Eeeh Là c'è un altro tesoro Una granata Evidentemente Tutto molto bello Ma io dove devo andare? A volte non posso avanzare perché Sono bloccato dai nemici Adesso che i nemici li ho fatti tutti fuori Ah Aspetta, aspetta, aspetta Ok Ehi Mo c'ha senso Oh, sempre a salvare i sali, eh? Sempre Vabbè, una volta sali Salvato anche molto più di una volta Vai Cazzo Come cazzo faccio? Beh vado Dove vado? Eeeh Me li hanno mandati Te pareva Però aspetta, eh Spari di tutti Li vedo Ok E me ecco pochi colpi C'è una novità Assolutamente no Eh, lo so che devo andare là Però Abbiamo Dei problemi Abbiamo Dei problemi Da affrontare Prima E non sono del tutto Problemi Diciamo Trascurabili, eh Se proprio Devo essere sincero Dammi cambiarma, va Fuori E arrivai con sto suggerimento Io apprezzo il suggerimento Guarda Lo apprezzo tantissimo Però Abbiamo un problema Di forza maggiore Che Mi servono munizioni Ok E questo è già qualcosa E altro problema Di forza maggiore E che ci sono dei nemici Da affrontare Oh cazzo Che è successo? Dove ci hanno sbattuto? Ragazzi Io non lo sto capendo Sto capitolo qui, eh Non potete andarvene senza di me Va bene La barca non è partita Il che va bene No, che frase Alla Salvini Che è questa Eh, però Se si nascondono così Ho Ho molta difficoltà A colpirli Eh Non è che ho difficoltà Proprio non li colpisco Mai Eh, non c'ho più Neanche le bombe È vero Vabbè, tanto tu lassù Puoi morire, vero? Ok Tanto Uno in meno Uno di diecimila in meno Mi aspetto Quello centrale Buono Ragazzi Però se non muore Io che posso farci Non muore Ti spara un testa Da un metro e mezzo Muori, no? Ok Ah, pure dall'altra nave Arriva Che bello Che gioia No, ma stiamo scherzando Eh, te la sei cercata Ciccio Pure te Fuori Fuori Eh, ricarica Che palle Eh, ciao Oh, l'ho colto Oh, l'ho colto almeno Almeno quello Devo saltar sull'altra nave Per caso Salta sull'altra nave Lo so Lo so Lo so Oh Eh Tutto così complicato Randy Ciccio mio, eh E anche io ci metto del mio Però Fuori Ci mancava l'antison monster Raga Ok, buono Non è morto Prendiamo l'arma migliore del gioco La pistola Si, va bene Oh, saltatore professionista Quello da dove viene Oh, e dai Forza Fai uno sforzo Niente Mi sembra che non lo voglia Cogliere apposta Oh 870.601 colpi Da dove spara E' dal bastardo là Da dove Dov'è che spara Fica Ti vedo A me qua Servirebbe Un Ereping Ti pareva Che non lanciasse In culo Vero Faccialo di nuovo Faccialo di nuovo Ovviamente Non è morto Quasi nessuno Vero Mi è servito Un cazzo Raga Nato Ereping Grazie Oh Godo Siamo nella merda Pure noi Ok, buono Ciao nave Siamo senza armi E siamo anche nel capitolo 14 Ragazzi Cruciera Movimentata E ce ne andiamo Per le Spiagge 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 Spiagge